Al via la campagna congiunta di sicurezza stradale promossa da Roadpol, European Road Polizia, a livello europeo, l'iniziativa viene svolta con il supporto della Commissione europea nel quadro della settimana europea della mobilità che va dal 16 oggi al 22 settembre 2020, che ha lo scopo di ottenere a livello europeo una giornata, quella appunto del 16 settembre, a zero vittime sulla strada. Tra gli effetti collaterali e gli scopi della campagna, quello di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e di incidentalità grave sullo strado europeo, oggi più che mai in aumento, quello di richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all'obiettivo europeo, di ridurre del 50% del numero delle vittime sulla strada, dimostrare che con un ampio sostegno da parte della collettività si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee. Anche la Polizia Stradale di Agrigento aderisce all'iniziativa. Da un lato predispone, lungo le principali direttrici di traffico della provincia, servizi mirati al contrasto alle principali cause di incidente stradale. Dall'altro con attività di sensibilizzazione sulla strada che nelle scuole, anche con la distribuzione di un pieghevole realizzato per l'iniziativa in oggetto. Domenica mattina a Villa Bonfiglio un appuntamento in tal senso. Prende al via oggi la campagna europea promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali, Rodpol, appunto la campagna Safety Days, che va in occasione della settimana europea della mobilità, che va dal 16 al 22 settembre 2020. In particolare oggi è la giornata dedicata a zero vittime sulla strada, questo ambizioso progetto del Network Europeo Rodpol. In tutta la settimana, dal 16 al 22, saranno promosse in tutta Europa dei mirati servizi da parte delle polizie stradali per il contrasto di quelle che sono le principali cause di incidente stradale. Quindi da oggi fino al 22 ci saranno mirati servizi di telelaseri nella provincia di Agrigento, quindi per il contrasto a quella che è una delle principali cause, l'eccesso di velocità. Mirati servizi saranno anche promossi per il contrasto alla distrazione e in particolare all'uso degli smartphone alla guida, che è diventata purtroppo la principale causa di incidente stradale. A tal proposito, Rodpol nel contempo della campagna Safety Days si sta proponendo anche un'altra campagna, che è quella Focus on the Road, e dal nome si capisce che è proprio l'attenzione alla strada, quindi le distrazioni che purtroppo anche in provincia di Agrigento sono diventate ormai la principale causa di incidente stradale. Oltre a questo, particolare attenzione sarà data anche all'uso della cintura di sicurezza e ai sistemi di ritenuta per bambini e anche all'uso del casco da parte dei conducenti dei veicoli a due ruote. L'obiettivo europeo è quello di ridurre del 50% gli ingegni stradali in ambito europeo entro il 2030. È un ambizioso progetto, ma col contributo di tutti possiamo ottenerlo. Oltre a questi mirati servizi, infatti, parte una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, di volte ai cittadini. I cittadini nel sito europeo rodpolsafetydays.eu possono, schiacciando il tasto pledge impegno, impegnarsi ad aderire a queste importanti iniziative. Un quadro sulla situazione nostra agrigentina, che solitamente nei fini di settimana tende a essere sempre al massimo livello. Il vostro controllo? Qual è, comandante? Anche in provincia di Agrigento, insomma, i dati confermano un po' quelli nazionali. Devo dire che quest'anno, grazie anche al lockdown, c'è stato un notevole calo degli incidenti stradali gravi, soprattutto. Però non dobbiamo abbassare l'allerta e l'attenzione, perché la disattenzione, purtroppo, alla guida, sta in queste ultime settimane iniziando a causare nuovamente incidenti stradali anche in provincia di Agrigento. Domenica una importante manifestazione che si svolgerà qui sulle vittime della strada, dove parteciperete anche voi? Sì, assolutamente, sarò presente anche io. È un'importante iniziativa e mi fa piacere che sia inserita nell'arco, nell'ambito della settimana europea della mobilità. Appunto questo invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia. Purtroppo, nella fascia di età giovanile, in Italia e anche in provincia di Agrigento, la principale causa di morte rimane quella degli incidenti stradali.